A Bova Marina una mensa solidale per pensare non agli ultimi ma al prossimo, a chi ha più bisogno, insieme alla Caritas e all'amministrazione comunale. Credo che sia un momento importante in una comunità che sta riscoprendo il suo essere presente. Presente soprattutto là dove c'è bisogno di solidarietà, di comunione, comunione che non significa soltanto chiesa o soltanto famiglia, ma significa soprattutto condivisione. Condivisione, condivisione dei momenti importanti della vita. Ora un pranzo, una cena, una sagra come anche si sta facendo in queste manifestazioni natalizie, sono momenti di aggregazione. L'aggregazione è il segreto un po' della vita della comunità. Anche perché la dimensione della povertà che conosciamo noi, stereotipata, quella dei clochard, non corrisponde a quella che poi troviamo realmente. Sono famiglie normali che però a causa di questa crisi si trovano in un grave momento di difficoltà, come è il caso anche qui a Bova Marina. Le famiglie che hanno bisogno e che si rivolgono alla Caritas sono tante, ma la Caritas mese con mese, settimana con settimana, svolge egregiamente il proprio lavoro a fianco alle famiglie, supportandole in questi momenti di grave difficoltà. Sì, credo che la Caritas sia lo strumento privilegiato, ma non esime altre famiglie, altri gruppi, altre persone a sentirsi solidali. La solidarietà oggi è una delle cose che ancora è sentita dalla gente e dal popolo. Infatti vorrei quasi dire che a volte si fanno meno offerte alla Chiesa, ma più offerte indirizzate ai bisogni indispensabili. Il problema è che la crisi economica è investita un po' tutti, dalla Chiesa, dalle istituzioni in genere, fino alle famiglie. Il bisogno però credo che non sia quello, perché un pezzo di pane oggi non è negato a nessuno, ma sia quello dell'aggregazione, del vivere nello stile della famiglia, il proprio essere uomo, il proprio essere donna, il proprio essere comunità. Quindi, Don Gaetano, sono tante le famiglie che si rivolgono alla Caritas, altre tante quelle che, per una questione evidentemente di pudore personale, pudore che non ci deve essere perché non è una situazione di vergogna, essere aiutati è molto importante. Quindi facciamo un appello a tutti coloro che magari non hanno ancora chiesto l'aiuto della Caritas e che invece potrebbero e dovrebbero farlo. Sì, in genere, per quella che è la mappa dei bisogni che abbiamo noi, arriviamo a una quarantina, una cinquantina di famiglie. Naturalmente, i presidenti qui alla mensa non sono tutti, diciamo, per quella dignità che a volte impedisce un po' il riconoscere questo limite. Però il campanello, la porta della parrocchia, tante volte è bussata anche da giovani, è bussata da persone che forse anche a volte non hanno dei bisogni indispensabili, però sentono il bisogno dell'appoggio della comunità. Credo che sia un fattore importante. Noi, attraverso questo gruppetto che gradiremo, si ingrandisse di gente che pensa agli altri, magari anche qualche ora alla settimana, qualche ora al giorno, aumenti. La necessità, credo che... bisogna che operiamo un po' tutti. Ecco, la Carità non è una cosa a sé stante, è una dimensione trasversale della vita della comunità. Così, per esempio, anche a livello civile, credo che l'attenzione non all'ultimo, nel senso che non ha da mangiare, ma l'attenzione a chi ha meno cultura, a chi ha più bisogno, agli ultimi, ai piccoli, ecco, sia un criterio anche salesiano, quello di evangelizzare e promuovere la dignità della persona umana. Il Vangelo di oggi ci richiama proprio questo, no? Dio ha dato dignità alla persona umana, questo è il significato del Natale. Dall'amministrazione comunale di Bova Marina, un'attenzione in più a quelli che noi chiamiamo gli ultimi, ma che in realtà devono diventare i primi e sono sempre i più bisognosi. Sì, abbiamo organizzato questa mensa solidale, in collaborazione con la Carità, se la ditta Serrano Giovanni è la ditta che gestisce il servizio mensa e le ringrazio per la collaborazione. La nostra amministrazione, come è giusto, è un'amministrazione che è molto attenta ai bisogni delle fasce più deboli e questa iniziativa si inserisce appunto in questa direzione che ci siamo dati. Noi abbiamo fatto una serie di iniziative oltre a questa di oggi, e in particolare vorrei ricordare la procedura di utilizzo dei soggetti, di persone che purtroppo non hanno un lavoro sfruttando l'opportunità dei cosiddetti voucher, che è un sostegno ai giovani e a tanti genitori che svolgono un'attività lavorativa e percepiscono un reddito sia pure minimo. E poi la Family Card rivolta alle famiglie numerose, altra cosa molto importante. E anche la Family Card che è ormai di prossima attuazione. Io penso che sia un dovere da parte di tutti, soprattutto da parte di chi ha un ruolo importante nella società, quello di pensare prima di tutto ai bisognosi, a chi ha le fasce deboli, agli ultimi che poi in realtà non sono gli ultimi. E l'amministrazione comunale cos'altro ha in programma nel campo del sociale e quindi per la solidarietà nei confronti di queste persone? Ma intanto cercheremo adesso con la Caritas di sviluppare e intensificare i rapporti di collaborazione. Anche questa mensa solidale vedremo se di ripetere questa iniziativa, quindi dare anche una frequenza periodica e quindi non solo un evento, un'occasione sporadica. Poi c'è la Family Card e cercheremo anche di incentivare i voucher. Quindi una boba marina che si riscopre paese per il sociale? Sì, sicuramente, perché la cosa importante è quella di coinvolgere le persone e di far diffondere questo senso di solidarietà. Ormai la Caritas a boba marina è una presenza costante, ancora di più lo sarà con iniziative come queste, ce ne sono già altre in programma o comunque che attività svolge e svolgerà la Caritas da oggi in poi? Questa è una delle tante attività della Caritas. Ora abbiamo anche un'ottima collaborazione con l'ente comunale, col sindaco e tutti gli assessori e quindi si può ampliare il raggio di azione della Caritas in se stessa. Il nostro compito è quello di essere vicini a chi ha bisogno e non solo bisogno materiale, ma anche bisogno semplicemente di compagnia, di attenzione. E noi come Caritas, come parrocchia, cerchiamo di assolvere questo compito come semplici volontari in mezzo alla difficoltà, però cerchiamo di fare il meglio possibile. E diciamo anche che negli ultimi anni, negli ultimi tempi, c'è stato un aumento dei volontari, cioè di gente che è disposta a utilizzare il proprio tempo per gli altri, che poi è l'essenza di tutti i cristiani, dei salesiani, dei cooperatori come tanti di noi lo sono. E queste interviste servono anche per dare visibilità a quello che c'è di buono, che molto spesso fanno vedere semplicemente la parte brutta del nostro paese, comunque della nostra zona, mentre in effetti c'è tanto volontariato, c'è tanta buona fede e tanta buona volontà. La Caritas torna qui in questo stabile dopo circa un anno, anzi un anno e mezzo ormai, quando sono sbarcati gli immigrati, sono stati accolti qui dalla Caritas, che si è poi fermata assieme a tutte le altre associazioni di volontariato, H24, per diversi giorni. Sì, esatto, la Caritas è stata la prima associazione, quindi la parrocchia, non dimentichiamo che la Caritas non è un'associazione di volontari, è un'attività pastorale della parrocchia, della nostra parrocchia salesiana. Siamo stati noi i primi ad accoglierli, con i genui di prima necessità o con una semplice accoglienza, dopo che sono arrivati tutti gli altri e abbiamo fatto il nostro compito. Dopodiché, quando sono subentrate le attività istituzionali, noi siamo rimasti un pochino in disparte, però sempre pronte a intervenire.